Vengono in maniera particolare duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo, vedremo chi avrà la meglio. Ben ritrovati da Piero Gepardo e Lele Adani, grande calcio, targato EA Sports. Squadra in campo per questo match di club. È sicuramente una gara che può regalare grande calcio. Le formazioni messe in campo oggi dovrebbero essere una garanzia. È sempre un piacere essere qui in compagna tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Può andare al tiro. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il gol. Non ci ha pensato su due volte, ha calciato il muro trovando un gol bellissimo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sam. Zee. Adelante. L'arbitro faccello di avere visto, si va avanti col vantaggio. Può poggiarla un compagno. A metri. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Brutto errore. L'arbitro assegna il fallo laterale. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. Grande recupero in aria. Buono il pallone filtratte. Brutto traversone, palla che termina oltre la linea di fondo. Recupera la palla con questo tackle. Grande riflesso del portiere su questa conclusione d'avvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone finito sul fondo, occasione buttata. Adelante. Adelante. Opportunità. Ci mette una pezza dal pallone ancora lì. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Se ne va via la grande. Qua c'è il pallone giusto. La parata del portiere qui. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Calcio d'angolo che non produce effetti. Non è riuscito a centrare lo specchio, confusione che si è persa sul fondo. Schneiderlin. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Buono lo spunto qui. Attenzione, pericolo. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Molta calma, forse troppa vista la situazione di punteggio. Attenzione da lì. Si imbola su questo tiro. Cerca subito i compagni in area. Ottimo il recupero del portiere. Senza difficoltà. Martinez. Posizione interessante. Attenzione, errore grave. Solleva la testa, c'è cross in area. Occhio. Traversore che non crea problemi al portiere. Adelante. Se ne va di forza. Occasione della bandierina. Voglio del go del pareggio. Tentativo di traversone. Allontana questo pallone. Pala fermata benissimo dal difensore. Frizz. Interviene e recupera. Sam. Deac. Occhio alla progressione. Palla spazzata in calcio d'angolo. Intervento decisivo del difensore. Palla messa dentro. Palla dentro. È arrivato il raddoppio. Schema da calcio d'angolo questo. E ha funzionato alla perfezione. Tocco corto. E cross in area. Questo replay è più che meritato. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Un minuto. Indicato dal tabellone del quarto uomo. Finisce qui la prima metà di gara. Con le spade che abbandonano il terreno. Con le spade che abbandonano il terreno. Con le spade che abbandonano il terreno. Comincia ora il secondo tempo. Può venire avanti. Palla che sbatte sulla traversa. Pericolo. Respinge la conclusione. Ha intuito bene qui la situazione. Ottimo intervento in area. Palla che esce sarà corner. Palla recuperata. Palla recuperata dagli avversari. Punta la porta. C'è la touche. Si riparte con la rimessa laterale. Lo salta di netto. La allontana. Si fanno vedere i compagni. Attenzione, occasione. Si oppone alla conclusione. Interviene il portiere. Fa sul pallone. Teco robusto. Palla persa. Fritz. Martínez. Intercetta il passaggio. Interrompe la manovra. La colpina troppo sotto. Qui palla sopra la traversa. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Martínez. Riconquista il possesso di palla. Da lì può far male. E c'è il gol. Allungano ancora. Adesso sarà più tre. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato. È efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Adelante. Adelante. Sam. Perde palla. Alzano il pressing. De Hatch. Teco il vincente. Traversione al centro. Non cambia la sostanza dopo questa azione. Hanno la possibilità della ripartenza. tenta la conclusione. Tiro che è stato pulato. Grande occasione svanita. E la mette. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza così ravvicinata. In effetti bisogna davvero impegnarsi per spedirla fuori da quella posizione. palla che viene spazzata. Palla che viene spazzata. Palla che viene spazzata. gol arrivato sugli sviluppi di questo cross alla soterra. Un gol facile e facile. Da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Z. Sam. Intervento ruvido questo. Bacinovic. Buono. Il pallone è recuperato. Vediamo cosa inventa ora. Ottima difesa in aria. Prova il tiro. Conclusione respinta. Pericolo che svanisce. Ottimo il tackle. Ancora 600 secondi alla fine. Gioco fermo. È evidente qui la posizione di offside. Sam. De Haccio. E il pallone se ne va via. Occhio al contropiede Palla persa, attenzione Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner Palla messa dentro Tentativo che svanisce sull'uscita del portiere Palla in fallo laterale Ancora tre minuti prima del fischio finale La mette sulla corsa del compagno Palla che sbatta sul corpo del difensore La mette in area Senza problemi, portiere sulla traiettoria Può salire sulla fascia Non può fallire, attenzione Si oppone al tiro Palla verso il centro dell'area Deviazione di testa che sfiora qui la traversa L'aveva impattata bene, eh Ha esagerato solo leggermente con la mira Finisce qui il match Vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi Hanno fatto meno fatica del previsto Di imporsi contro una squadra Che stranamente apparsa troppo rinunciataria Parte del merito va anche Grazie a tutti 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 Grazie a tutti